Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di spessore della vernice, quindi di misurazione dello spessore della vernice. Come lo facciamo? Con gli spessimetri. Abbiamo appena introdotto sul nostro sito il nuovo MD750 Dietari. Avevamo già l'MD666, il 750 aggiunge qualche caratteristica tecnica. Prima però di parlarvi del MD750, vorrei chiarire con voi alcuni aspetti legati alla misurazione dello spessore della vernice. Diciamo che ai fini di un lavoro di lucidatura completo, la misurazione dello spessore non è fondamentale, non vi cambierà la storia di quel lavoro. Se avete in mente di effettuare un certo ciclo di lucidatura, valutatelo piuttosto sulla base di un test spot e non della misurazione dello spessimetro. Quindi questo non andrà a modificare il vostro lavoro. Ma dove può esservi utile uno spessore? Nel fornirvi maggiori informazioni. Facciamo l'esempio dell'acquisto di una vettura usata. Volete chiarire un po', avere qualche informazione in più sulla storia di questa vettura? Ecco, la misurazione con lo spessimetro vi darà qualche elemento. Vi farà capire se siamo davanti a una vernice originale oppure ad una vettura che è stata oggetto di una verniciatura. Quindi vi darà qualche elemento in più. Lato professionista, quindi lato detailer invece, lo spessore vi darà qualche informazione in più sulla vernice. Vi chiarirà lo storico, quindi se l'auto è stata sottoposta ad una riparazione. Poniamo il caso che voi effettuate un test spot in quest'area. E poi un altro qui. La reazione della lucidatura è differente. La misurazione vi spiegherà qualcosa in più, vi darà qualche elemento in più sul quale riflettere. Vi farà capire perché quella combinazione è efficace o comunque ha un certo tipo di risultato su un punto piuttosto che un altro. E' chiaro che darà maggiori informazioni al detailer. Ripeto, non modificherà il vostro modo di operare, ma sicuramente vi darà una completezza di informazioni maggiori. Quindi, fatto questo chiarimento, veniamo all'MD 750. Il 750, come il 666, misura ferro e non ferro, quindi anche l'alluminio, ma in più ha la possibilità di misurare su parti zincate ed è più efficace, più preciso nella misurazione di zone sottoposte ad una riparazione con lo stucco. Quindi una misurazione più accurata. Rispetto al 666, il 750 ha una tolleranza del 2%, quindi più preciso del 3% del 666. E lo spessore totale misurabile non è di 2000 micron, ma di 3000 micron. Quindi un ventaglio maggiore. Il 750 ha un'altra caratteristica utile sul display. La misurazione ha colori diversi, vi fornisce una sorta di alert visivo, oltre che numerico, sullo spessore che state verificando. L'utilizzo di MD 750, dello spessimetro, è veramente molto semplice. Spingerete sul tasto per attivarlo, per accenderlo. Appoggerete lo spessimetro sulla zona oggetto della misurazione e qui avrete il dato rilevato. Spostandovi, chiaramente il numero cambierà. Qui siamo davanti a 124 micron, il che ci mette, insomma, in tranquillità, sicurezza. La vettura vuol dire che è all'interno quello che possiamo considerare il range di vernice originale. Quindi è tutto ok. MD 750 è già disponibile sulla cura dell'auto. Vi lasciamo il link diretto al sito. Il 666 rimane anche in commercio. Chiaramente sarà una scelta entry level. Se avete bisogno di informazioni, scriveteci su assistenzachiocciolallacuradellauto.it Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Cliccate su campanella e robe varie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!